Ed ora, occhi puntati su Seat. C'è da spegnere le candeline. Un anno di vita e già tanti successi da raccontare. Il nuovo centro Seat di Breganzona è pronto a spegnere la sua prima candelina. Un bilancio sicuramente positivo. In questo primo anno abbiamo venduto oltre 150 Seat nuove. Nel pieno rispetto della filosofia Amac Retail Garage Cassarate, offriamo alla nostra clientela un servizio a 360 gradi. L'appuntamento è per sabato 12 maggio a Breganzona. Durante questa giornata di Porta Aperte offriremo delle promozioni molto interessanti. Inoltre offriremo a tutta la nostra clientela una possibilità di avere diverse animazioni con varie attività. In più sul mezzogiorno ci sarà una grigliata offerta. A servire la torta in tavola, 5 ospiti davvero speciali. Durante il pranzo saranno presenti i Gotthard, che ne approfitteranno per firmare degli autografi e presentare il loro nuovo album. Grazie. Grazie a tutti.